Parola d'ordine, futuro. Nel senso che in casa Pescara si guarda ormai al prossimo campionato di Serie B e soprattutto ai giocatori del domani. Quelli che si faranno magari con la maglia bianca-azzurra addosso. Non è un mistero che Zeman guardi con particolare attenzione ai prospetti che potrebbero arrivare magari dalle giovanili delle big. Prendete ad esempio la Juventus, società con cui c'è già un discorso aperto per Coulibaly, per l'avvenire, e che potrebbe completare la sua maturazione in rivale adriatico. Così come a parti invertite potrebbe fare Simone Muratore, il 19enne di scuola bianconera, capitano della formazione allenata da Fabio Grosso in semifinale del campionato dopo la vittoria sulla Sampdoria. Per lui anche delle convocazioni con la squadra di Massimiliano Allegri e una trasformazione in questo ultimo periodo da centrocampista centrale a difensore. Sarebbe un profilo interessante e ottimo nella prospettiva di rinnovamento del reparto arretrato che potrebbe subire una mezza rivoluzione. Peraltro con la formazione bianconera è probabile che in uno di questi incontri possa essere presa in considerazione una serata all'Adriatico per la presentazione ufficiale della Rosa del Delfino. In entrata, ma stavolta via Milan, potrebbe arrivare Luca Vido impegnato e con ottimi risultati con la nazionale under 20 di Evani nel mondiale di categoria. Tra gli azzurrini in evidenza anche altre due pedine che potrebbero interessare il Pescara. Si tratta dell'esterno difensivo di Marco, quest'anno Empoli, e di Ursolini, sempre via Juventus, visto che l'esterno offensivo dopo la grande annata d'Ascola è già di proprietà della società piemontese. A proposito di Piemonte, col Torino discorsi aperti per Vittorio Parigini, anche lui esterno d'attacco. I discorsi potrebbero riguardare anche in uscita l'eventuale futuro di Cristiano Biraghi, che piace e non poco al DS Granata Petracchi. Insomma, si prospetta un profondo cambiamento del Pescara in un'estate che si preannuncia calda e non solo dal punto di vista meteorologico. Gelfino vuole riprovare la scalata verso la massima serie ed ecco perché non può che guardare al futuro.